a ficiulle sta piovendo vediamo le previsioni per oggi adesso pioggia tra un'ora pioggia e poi un po di pioggia un po di sole tra due ore penso questo sia il monumento principale di ficiulle è bagnato per terra quindi ve lo faccio vedere ok questo fatto questo è il bar dove c'ho una sola batteria in carica vorrei caricare tutti e due mi ha trovato una presa sola e va bene e questa è la bici ve la mostro com'è al momento la bici abbiamo queste tre bandiere abbiamo la gopro che sta facendo il timelapse una foto ogni 5 secondi spero che riusciate a vederlo quindi quando caricherò il video tutto intero ci sarà la cosa velocizzata in più è montata su questa cosa qua che la sta facendo ruotare quindi la gopro in questo momento sta ruotando sul panorama e lo vediamo lo vediamo così ruotando poi vediamo la bici brandizzata va bene vediamo qualche altra cosa allora qui ho rimosso nell'elastico qui c'è la la cassa audio per sentire viva voce di zello perché sto ascoltando zello è con questo è il secondo telefono col telefono che ho in mano ascolto zello quindi potete collegarvi su zello il canale si chiama uno vale uno e ci sono insomma non tutto il giorno però ci sono collegato poi qui dentro vediamo dentro questo c'è il porto occhiali qui c'è il microfono della gopro questa qua va appesa qua qui c'è qui ci metto il telefono un secondo telefono quando voglio che sia tranquillo dentro fermo in ricarica questa è la batteria da 20.000 mAh che ho recensito sul canale millepassi pensate ben 20.000 mAh piccola così bloccata con lo scotch dual look questo velcro è molto potente e l'ho utilizzato tutto intorno e anche questo lo potete trovare su amazon e l'ho recensito sul primo canale quindi voi andate su mille accendini andate a vedere in particolare la playlist di amazon e potete trovare anche il microfono per la gopro e le varie cose che vi sto illustrando questo no perché questo l'ho preso a lidl vediamo un po' poi c'è il clacson avete visto il clacson eccolo qua questa è l'aria compressa oggi mi è servito perché c'era uno col camion della mondessa che stava in incrocio al telefono e non guardava questo è il rumore che fa il clacson questa è la seconda gopro che in questo momento sta facendo un timelapse del muro allora che faccio? allento e perché le voglio tenere sincronizzate cioè non le spengo perché voglio che riprendano l'intera giornata entrambe le telecamere poi dopo a fine serata se non intaso il computer se non intaso il computer vedete sto monumento qua classico monumento proprio l'hanno fatto in tutta Italia per la patria per la patria morto per la patria eh ti hanno fregato la vita non ho fregato ragazzi se lo sapevi se l'avessi saputo che arrivavano questi qua te la saresti tenuta la vita bene ragazzi se vi va pollici in su vi ricordo sono su canale zello uno vale uno zello un'applicazione il canale dove parlo uno vale uno dove parlo in diretta durante il viaggio e seguitemi anche su mille accendini sul canale facebook la pagina facebook di mille accendini ciao